bene primo long play con la macchina con la slot machine indiana jones prima di cominciare volevo spiegare un sistema che mi sono inventato per dare un valore ai ai gettoni premio perché quando escono i gettoni premio cosa valgono una volta volevano la consumazione adesso io gli volevo dare un valore che si potesse quantificare in termini di gettoni partita quindi cosa ho fatto ho messo delle etichette su ogni gettone un paio da 100 4 da 50 e poi queste qua 15 20 25 ne ho messe in quantità molto maggiore giustamente in modo che sia più probabile che esca un 25 un 20 un 15 piuttosto che un 100 un 50 io ho mischiati i gettoni li ho messi nel raccoglitore dei gettoni e così adesso quando esce un gettone premio può uscire un valore a caso tra questi che può essere facciamo finta che siano 100 oggettoni come 50 come 20 eccetera eccetera questo è il sistema che mi sono inventato per dare un valore casuale ai gettoni premio e caricato una cinquantina di crediti e dato che i miei mezzi televisivi sono molto limitati che faccio tutto col telefonino e dovrò fare spesso dovrò spezzare video quindi magari cerco di farli a una cinquantina di gettoni alla volta vediamo anzitutto se esce il gettone premio perché quando l'ho presa la slot machine i gettoni erano disattivati quindi era stato proprio tolto il tubo e quindi il switch non il switch che controlla la presenza dei gettoni rimaneva sempre spento e non li non li non rileva che c'erano i gettoni dopo ci ho giocato un paio di volte non ho fatto una partita abbastanza lunga per per vedere se effettivamente vengono fuori in test vengono fuori vengono espulsi ma in una partita vera al momento non lo li ho mai visti quindi sfruttiamo anche questo long play per per vedere se vengono fuori gettoni vediamo se riesco a fare un video bello perché come ho detto le i mezzi sono quelli che sono cominciamo